Il mio lavoro ha a che fare con una pratica sostanzialmente continua, costante, direi appunto tutto sommato giornaliera, ha a che fare con molto, con stratificazioni, appunto una costante riproposizione di materia su materia e questa nasce nel 2019 in periodo Covid, proprio durante i primi giorni, i primi periodi di segregazione a casa, quando non si poteva uscire, eccetera, ha a che fare con una serie di lavori che io ho intitolato, ho chiamato Organo del Sommerso e ho escogitato con quello che avevo in casa e con materiale che fondamentalmente mi affascinava da sempre la bustina di tè, un modo per replicare la mia pratica di studio in casa, quindi avevo un po' di materiale, eccetera, con un filo di acciaio ho iniziato a posizionare queste bustine di tè processate naturalmente per essere bevute, eccetera, e poi reinbevute in sostanze che poi li solidificassero, vina, villa, resina, adesso non mi ricordo che cosa fosse, e ho iniziato a monticchiarne una sopra l'altra, queste sono migliaia in realtà, poi dopo il periodo Covid l'opera è stata trasportata in studio e ha iniziato il lavoro massiccio di stratificazione di queste bustine di tè, non solo bustine, cioè sono per l'80% bustine di tè però raccolte anche intorno a camere vuote, a scheletri che dettassero diciamo una forma sul tutto, ecco. Fa parte di una serie di opere che sono concepite per diciamo essere sospese e quindi non avere dei punti d'appoggio fissi né dal basso né dall'altro ma in sospensione con un gancio di testa e poi una coda lunga. Ora il sommerso che fa parte del titolo che dà alcune, una superficiale chiave di lettura al lavoro è ciò che ricorre diciamo in tutti i lavori, in tutte le sculture che ricadono sotto questa classificazione diciamo. Questo sommerso eccetera ha a che fare in qualche modo con la pratica stessa di stratificazione, con una pratica di anche accelerazione dello sviluppo naturale di deteriorizzazione, insomma di morte. Un rapporto con il tempo perché come dicevo all'inizio ci sono, la stratificazione implica dei tempi di asciugatura, ok? Non tutta la materia viene gettata, applicata, manipolata in uno stesso momento come fosse un blocco di cera, no? Un blocco di argilla che si presenta diciamo e poi viene scalfito, viene eroso, viene manipolato eccetera. Il contrario, quasi il contrario è una stratificazione che parte atomisticamente da dei singoli punti che vengono aggregati, ok? Poi anche levati e riaggiunti, ma la pratica è quella di addizionale. La pratica addizionale implica appunto come dicevo tempi di asciugatura, tempi di anche proprio essiccatura della materia che implica, alcuni materiali implicano proprio una essiccazione attraverso dei phon dell'aria calda accelerano un processo che altrimenti naturalmente sarebbe molto più molto più lento. Questo per esempio per ottenere alcune variazioni di colore, di mutazione del colore. Il lavoro come si presenta finito agli occhi di chi lo guarda senza che ne sappia nulla del processo eccetera, appare come un lavoro che viene da quasi sempre o comunque spesso da un altrove, un altrove fisico, quindi di spaziale e proprio per via di questo tipo di lavorazione che accelera i tempi, li precipita eccetera, anche ha a che fare con la temporalità di un oggetto che è virtuale, che può richiamare ad un oggetto antico, un oggetto di un altro tempo, di un oggetto appunto che ha subito una stratificazione marina o appunto sotto terra o che ha a che fare veramente con lo strusciare della materia su se stessa, che può appunto generare delle ambiguità di carattere percettivo. Il mio lavoro gioca anche sullo spazio, ospita l'opera non è un appunto un vuoto inerte, ma almeno io non lo concepisco mai come un vuoto inerte, ma tutt'altro è qualcosa che di estremamente concreto, quasi punge l'opera e l'opera allo stesso tempo direi che combatte con questa sua presenza.